La terza edizione degli Stati Generali dell'Accessibilità si fonda con Pesaro 2024 per creare una capitale italiana della cultura accessibile. Così l'Auditorium Scavolini sabato scorso è diventato centro nevralgico delle riflessioni sulle evoluzioni delle politiche d'accessibilità a livello nazionale, portando nel nuovo Palasport ospiti e interventi da tutta Italia fra che esistono i buoni prassi di modelli virtuosi messi a terra proprio nei luoghi della cultura, dai teatri ai musei fino ai parchi. Stati Generali quest'anno coordinati dalla giornalista Rai Paola Severini Melograni, autrice del programma di inclusione sociale o anche no. Pesaro capofila di un'accessibilità che nell'ultimo anno ha visto una svolta radicale con la possibilità di mettere a terra il PEBA, ovvero il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Un piano che servirà a pianificare il lavoro nei prossimi anni, oltre 60 milioni di euro di interventi pianificati e programmatiche dovremo pianificare e programmare per risolvere il tema delle barriere architettoniche a Pesaro. Abbiamo oltre 800 chilometri di percorsi pedonali, un grande strumento di pianificazione ci sarà utile per risolvere finalmente il tema delle barriere architettoniche. Quest'anno parte da Pesaro la rincorsa per la consapevolezza e per la responsabilità, consapevolezza e responsabilità che ci permetterà di rendere Pesaro davvero più inclusiva ed accessibile. Questo risultato è stato molto importante, considerate che il PEBA è una legge del 1986 e quindi arrivare all'unanimità ad avere questa approvazione direi che è il risultato più importante ma che è un punto di partenza, perché poi adesso per metterlo in pratica e realizzare il PEBA abbiamo un lavoro che sarà un lavoro di anni e di tante risorse, perché servono tanti milioni di euro. Sta di fatto che anche l'approvazione del PEBA ha messo in circolo nella città una riflessione molto importante che passa dall'accessibilità motoria che prima o poi nella vita incontriamo tutti se non altro perché si diventa vecchi, anziani e per cui l'inciampo verso una barriera architettonica la incontriamo ma da quella architettonica siamo passati ad altre riflessioni, le barriere sensoriali, le barriere comunicative, relazionali e questo è stato il frutto più grande di questi anni direi, non solo di quest'ultimo, di questi tre anni. Non solo il PEBA, l'ultimo anno a Pesaro ha prodotto anche la diffusione dei Vademecum della Carta della Capitale della Cultura Accessibile. Una carta denominata Carta della Capitale della Cultura Accessibile che ho proprio redatto insieme ai cittadini che erano presenti al Tavolo della Cultura degli Stati Generali di giugno 2023 quindi quei cittadini in quella discussione intorno a quel tavolo li ho richiamati tutti io ho detto beh vediamo di redigere un documento che si è condiviso, quindi l'abbiamo scritto insieme io l'avevo presentato a dicembre del 2023 a tutta la cittadinanza ed è stato pubblicato sul sito della Capitale e in questo momento viene applicato ovviamente da tutti i progettisti della Capitale e ci ha messo anche qui in collegamento con tutte le associazioni e anche con tutti i comuni dell'entroterra perché la riflessione si è allargata a tutta la provincia. Politiche di accessibilità che una volta ottenuti finanziamenti e studiata la pianificazione invocano anche l'accompagnamento di un cambio di prospettiva culturale. La più grande difficoltà è corresponsabilizzare tutti sul tema dell'accessibilità mentre una pubblica amministrazione, un comune adotta degli strumenti per risolvere questi problemi la gran parte delle difficoltà l'abbiamo anche sui privati cioè tanti di noi anche nel nostro piccolo quotidiano spesso non rendiamo facile la vita a tutti quindi rendendo non accessibili i nostri locali, i nostri esercizi commerciali non rendendo accessibili i nostri condomini, le nostre case e quindi questo è una delle difficoltà più grandi soprattutto nelle barriere culturali che quotidianamente noi mettiamo contro alle persone. Dobbiamo spostare lo sguardo e pensare a quello che funziona nella persona e quindi se una persona funziona solo un braccio io devo dare la possibilità a quella persona di usare quel braccio al massimo delle sue possibilità e nel fare quelle abilità con quella parte di sé, qualsiasi sia, al massimo dello sviluppo dovrà partecipare sempre di più alla vita sociale e questo ha a che fare molto con la visione della persona e per cambiare visione della persona bisogna parlarne la cultura si fa così. Grazie 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 Grazie